Cunvaior, un'idea del Monte Bianco, eccola, eccola, si sale, laggiù in fondo Cunvaior, ed eccolo laggiù in fondo il Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa, verso Puntal Bronner, sempre più lontana Cunvaior, un gran paradiso laggiù in fondo, il Monte Bianco, sempre più vicino, Puntal Bronner, il tunnel verso Refugio Torino, una sculente, il piazzale, il dente del gigante, una scarica di montagna tra cui il piazzale, i pannelli solari, eccola qua, la camminoria, eccola, Monte Bianco, dente del gigante, eccoli che camminano sul ghiacciaio, Monte Bianco maestoso, è alto più di 4.000 metri, il dente del gigante, eccola là in fondo, a guido di 3.800 metri, oltre, sono proprio a 10 metri sopra il ghiacciaio, uno in Francia, mentre gli alpinisti, si andano alla Puntal Bronner, ghiacciaio sofferente, con i suoi crepacci, eccola giù sotto la valle, Lascia in Italia alle costana, i crepacci incredibili, attraversando si fa il cabino da 3, il vento del gigante, l'Italia là in fondo, è una valle bianca sto attraversando il ghiacciaio d'Ugea 4.248 metri Mont Blanc d'Utacul una fumiglia una vinovia del Monte Bianco è uno spettacolo il ghiacciaio d'Ugea con i suoi crepacci Mont Blanc d'Utacul si avvicina la Guido Vidi è viventissimo il col di Vidi buonissima questa traversata rispettate ma non è ancora si vede la gente sotto tutta la bronna e l'altra traversata che ho fatto anti-listi a go-go lo dice anche il cartello sono sulla Guido Vidi eccolo là in merso la vetta là sopra sono sulla Guido Vidi l'alpinista sale E' un po' di ordine di ruolo per debuttare. Passo nel tubo. E lo spazio esplosibile qui. E' un po' di nuova. E' un po' di nuova. Marese Monte Bianco con la guida xD Al Vettura del Monte Bianco. La Vettura Europa Laggiù in fondo il confine italiano. Il Monte Bianco chiede d'invece. Giù in fondo c'è l'Italia, la guida xD Saluto il Monte Bianco. Lo dice anche il cartello. La guida verde laggio in fondo 4122, poi le droites 4.000, le cooters 3865, poi il Gran Combin, la vedete? Maestoso a sinistra dal fondo, il dente del gigante, Gran Gioras, eccolo laggio in fondo siamo lì, il ghiacciaio triste, sto andando sulla terrazza trasparente, obbligatoria il ciabattino. Eccolo trasparente. E' una supera, shall we? E' una supera, shall we? e vedo i chamoni punto trasparente sostegno alpini sti infernissimi mentre qui il sole finisce spagato adesso io sulla terra vedete gli scalatori in parete? ha impressione quella tenda in mezzo al niente vedete come ballano cammino via fa caldissimo qua sopra che spettacolo punto intermedio Marjoras dente del gigante come balla con la corda lì, come balla in momenti saremo a Punta e Bonner di nuovo in Italia il dente del gigante sono spesi nel vuoto alpinisti da ogni dov'è è proprio un gigante il dente del gigante la gran Gioras dietro si intravede e entro in Italia sono di nuovo a Punta e Bonner strutture veneristiche Edoardo Agnelli Mont Blan de Takul e Mont Maudit che è quella punta che c'era sopra il monte bianco invece è imerso dalle nuvole adesso a Guil noi deputirei sono a Punta e Bonner 3.4.66 Pura dell'elicottero e una terrazza panoramica gran paravisola in fondo Anche il cagnolino a prontatone, eccola la terrazza panoramica. Paul Elbron è lui che dà il nome al cinema. E' giungendo il pavillon, pavillon. Ormai vicino a mezzo secondo le nubole la fanno la padrone sul Monte Bianco. In sereno appunto Elbron. Pavillon, pavillon. 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 Anche a 2.120. La legge a finire. La realizzazione. Ed ecco che allora al pavillon. Ti prende il sole di bestia qua. E lo lascio il tocco con me. ... ... ... Il mio ritorno a Chinoa York Qua inizia il tunnel del Monte Blanco